Ed ecco la prima voce femminile di questo panel di relazioni, che è di Felicia Pelagalli, di Cultura e Nuova Sole 24 Ore, l'inserto sulle nuove tecnologie del Sole 24 Ore, il tema Quale fiducia nell'intelligenza artificiale e in una società connessa? Domanda, sentiamo. Il moderatore diceva la prima voce femminile, sì, è un mondo di uomini. L'80% dei professori di intelligenza artificiale è uomo. In Facebook, nel reparto che si occupa di ricerca e di intelligenza artificiale, soltanto il 15% sono donne. In Google, soltanto il 10% sono donne. Vado avanti. Come evolve l'intelligenza artificiale e cosa significa per l'uomo barra per la donna? La sensazione è che stiamo guardando in questo momento all'innovazione tecnologica, oscillando tra preoccupazione e rassegnazione. Tutte e due emozioni legate a una sensazione di impotenza, di perdita di controllo. L'intelligenza artificiale, abbiamo visto anche nelle bellissime relazioni precedenti, può portare delle opportunità, aumentare le capacità umane o può portare dei rischi, perdita della supervisione umana, ad esempio, sulle macchine intelligenti. Ma perché in questo momento storico abbiamo difficoltà a immaginare il futuro? Io credo che la difficoltà che abbiamo a pensare all'intelligenza artificiale con positività sia connessa a questo momento di disorientamento che stiamo vivendo, che forse è un momento dovuto, visto il passaggio dal XX al XXI secolo. però dovremmo iniziare a riavere un'utopia. Un'utopia non come illusione, ma come visione, come possibilità di immaginare, quindi prefigurare il futuro. E quindi se lo prefiguriamo, lo gestiamo, lo orientiamo, altrimenti ci faremo portare da qualche parte che non sapremo dove. L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la vita di tutti noi ed è importante che lo faccia nel modo giusto. Non si tratta di andare più veloci, ma nella direzione giusta. È stato nominato varie volte. Credo che sia un atto importante quello che la Commissione europea ha voluto fare costituendo questo gruppo di esperti, che l'8 aprile hanno pubblicato un rapporto che traccia le linee di sviluppo etiche dell'intelligenza artificiale. La cosa che mi ha colpito di questo rapporto è che parte, sapete da cosa? Parte dalla fiducia. Pensate, un codice etico, un codice che traccia le linee di sviluppo etico dell'intelligenza artificiale, parte dall'esigenza di dover ricostruire fiducia nell'intelligenza artificiale. Perché la fiducia è la base che regola le azioni in una società e quindi sarà la base che ci aiuterà a sviluppare l'intelligenza artificiale. Sì, quindi è essenziale che la fiducia rimanga il fondamento di società, comunità ed economia. E questo gruppo di esperti si è concentrato sulla possibilità di sviluppare un'intelligenza artificiale che sia in linea con i nostri valori europei. Quindi con il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Allora, questo credo che sia un aspetto importantissimo del ruolo dell'Europa in questo momento. Abbiamo da una parte gli Stati Uniti con cinque grandi big tech che stanno governando i nostri dati e le nostre vite. Dall'altra abbiamo la Cina che sta governando i dati dei propri cittadini. controllando molto della vita dei propri cittadini. in mezzo, io credo, ci possa essere il vecchio continente. Ci possa essere l'Europa con tutta la sua cultura di attenzione ai valori umani. E così come abbiamo fatto con il regolamento per la protezione dei dati personali, che è stato il primo regolamento sulla protezione dei dati personali, e che ora gli Stati Uniti comincia a pensare che forse bisognerà che lo facciano anche loro, così il codice etico per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale segna un ruolo importante dell'Europa in questo scenario. Siamo indietro rispetto agli investimenti, siamo indietro rispetto alle industrie che sviluppano l'intelligenza artificiale, siamo avanti nel pensare all'etica, pensare alla garanzia dei diritti umani, pensare a un'intelligenza artificiale che non si contrapponga alla democrazia. Questi sono i sette principi che il codice etico ha delineato. Autonomia umana, sì l'intelligenza artificiale, il collega dell'IBM diceva non mi piace parlare di intelligenza artificiale, preferisco parlare di intelligenza aumentata. Sì, effettivamente questa parola, intelligenza artificiale, è fuorviante, crea un sacco di inutili preoccupazioni. Però ecco, l'autonomia umana deve rimanere, ci deve essere la supervisione umana nella gestione delle macchine. Sicurezza e affidabilità degli algoritmi, il secondo principio. Controllo sui propri dati e quindi il regolamento a cui accennavo prima sulla protezione dei dati personali. Trasparenza di funzionamento dell'algoritmo, queste famose black box di cui parlavamo prima. diversità, non discriminazione, equità, quindi attenzione a bias, benessere ambientale e sociale, responsabilità. Se una macchina guida autonoma fa un incidente, di chi è la responsabilità? Quindi la frase che utilizzavamo un tempo, i computer fanno solo ciò per cui sono programmati, non è più vera. Sono in grado di imparare dalle loro esperienze, dagli esempi, si diceva prima, e intraprendere azioni che non sono contemplate dai progettisti. Questo che vuol dire? Che sfugge dalla supervisione umana? Il governo cinese sta usando intelligenza artificiale e riconoscimento facciale per identificare, notizia del New York Times, per identificare e localizzare questa minoranza musulmana. Metteteci un S in meno. Questo, se questo è vero, se questa notizia è vera, si tratta del primo controllo di una minoranza, del primo controllo discriminante di qualcuno. che magari potrà suggerire a qualcun altro di iniziare a controllare nello stesso modo i confini del messico. I sistemi di intelligenza artificiale assorbono i pregiudizi dei dati che vengono immessi. Se i dati hanno dei pregiudizi, l'algoritmo farà propri questi pregiudizi. Se negli esempi ho messo dei pregiudizi, l'algoritmo li farà propri e penserà che quella è una regola giusta da riprodurre. Quindi come evitare i pregiudizi nella costruzione dei dati? È stato fatto un esperimento. Hanno mescolato 25, hanno mescolato le foto dei parlamentari americani in 25.000 immagini. Nel 5% dei casi emergevano dei falsi positivi. Cioè nel 5% dei casi c'era una corrispondenza tra criminali e parlamentari. Cioè i parlamentari erano segnalati come criminali. E tra questi falsi positivi il 39%, guarda un po', erano deputati con pelle scura. Ancora, una ricercatrice del MIT di Boston ha verificato l'accuratezza del riconoscimento facciale. Nel riconoscimento facciale c'era una precisione del 99% in caso di uomini bianchi. La percentuale scendeva al 34% per donne con carnagione scura. Quindi con due bias. erano donne ed erano di carnagione scura. Le reti neurali istruite tramite algoritmi rendono i pregiudizi sociali invisibili e inspiegabili. Perché poi appunto il mutuo che andremo a chiedere noi avremo la decisione no, non te lo diamo, non sapremo perché quale pregiudizio è stato immesso attraverso i dati, attraverso gli esempi. I sistemi di intelligenza artificiali se forniti di un numero di esempi sufficientemente grande possono apprendere e svolgere compiti che altrimenti richiederebbero comprensione e intuito. Comprensione e intuito. Le due caratteristiche che ancora ci contraddistinguono come uomini. Ma le reti neurali come apprendono? Qui credo che ci siano due dimensioni a cui pensare. La prima è che probabilmente le reti neurali ci aiuteranno a comprendere meglio il funzionamento del nostro cervello. Quindi ci aiuteranno ad esplorare i meccanismi di funzionamento del cervello umano. La seconda cosa legata invece all'apprendimento delle reti neurali è legata anche a quello che dicevamo prima sui pregiudizi è capire come vengono addestrati gli algoritmi. Questi esempi di gattini che immettiamo nell'algoritmo affinché dopo aver visto tanti tanti foto di gatti l'algoritmo riuscirà a individuare un gatto che non è tra gli esempi che gli abbiamo dato ma è un gatto altro ma lui ormai ha imparato le regole e lo riconoscerà. Ma chi immette tutti questi gatti? Allora in parte siamo noi in parte siamo noi nel nostro funzionamento in rete utilizzando ad esempio la traduzione di Google o quando ci chiedono per entrare da qualche parte qual è il palazzo dove è la foto dove è il palazzo e la foto dove è una macchina in quel caso noi stiamo alimentando intelligenza artificiale senza saperlo ma ci sono dei micro lavoratori magari nella parte sud del mondo che immettono per tutta l'intera giornata riconoscono foto e mettono foto per dire questo è un cane o questo è un lupo questo è un cane e questo è un lupo quindi c'è da valutare anche tutto questo lavoro digitale che c'è dietro l'intelligenza artificiale non sono tutti uomini bianchi belli e sorridenti come li pensiamo di solito l'intelligenza artificiale c'è in realtà dietro un grosso lavoro e c'è Antonio Casilli che su questo ha svolto una approfondita ricerca e ultimamente ha pubblicato anche un libro che credo sia molto interessante concludo dicendo l'intelligenza artificiale può essere un'intelligenza che per le persone IA4People perché perché può aiutarci a risolvere problemi ambientali quindi a prenderci cura del pianeta e non soltanto a consumarlo a migliorare la salute e la nostra felicità quindi il gruppo di esperti ha proposto una nuova definizione di intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale può aumentare la prosperità umana migliorando il benessere individuale sociale e il bene comune i sistemi di intelligenza artificiale possono facilitare il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile quindi promuovere l'equilibrio di genere affrontare il cambiamento climatico migliorare i processi di salute monitorare i progressi verso gli indicatori di sostenibilità vi lascio anch'io con una frase temo l'intelligenza superficiale tanto quanto quella artificiale perché penso che la competenza non sia soltanto competenza tecnica ma sia anche competenza nel fare in modo serio le cose e non in modo superficiale grazie a tutti per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti per l'attenzione